ok buongiorno benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 3 maggio non so se ho scritto 3 o 2 maggio ma mi sbaglio sempre con le date insomma ieri era il 2 e oggi è dunque il 3 non ci sono stati giornati ieri perché il primo maggio i giornali non ci sono il primo maggio oltre a non esserci giornali non c'è neanche l'ingresso alla qui proprio qui alla come si dice all'ultima scena di leonardo e sgarbi si arrabbia come una bestia oggi sul giornale l'avevamo citato anche nell'ultima rassegna stampa e dice il primo maggio è un'abdicazione dello stato e una mancanza di rispetto per gli italiani ma io direi più che per gli italiani per tutti quei turisti che sono venuti buongiorno federica buongiorno agostino tutti quegli italiani e stranieri che sono venuti per vedere l'ultima cena sono venuti a milano che non è esattamente roma e non si sono e si sono trovate le porte sbarrate insomma questo è quello che è avvenuto e sgarbi oggi sul giornale lo cita non che vada meglio dove invece le cose sono aperte al colosseo oggi il messaggero ci ricorda come per la terza volta anzi no direi che in per la terza volta in cinque giorni c'è stato un cretino di straniero che si è messo a scrivere sulle pietre secolari del colosseo i propri iniziari nome e cognome ciao simona ciao anna e ciao telsa vedo che c'è anche su instagram la gente che sta iniziando a collegarsi a quest'ora ma la vicenda ovviamente non è quella artistica che tiene in piedi tutti quanti i giornali ma il titolo forse più importante di oggi riguarda il sottosegretario siri conte pretende le dimissioni di siri allora ricordiamo cosa è successo per la vicenda di siri perché spesso noi giornalisti che cosa facciamo raccontiamo le cose ma soltanto il finale delle cose e non ricordiamo a voi che ci state leggendo che ci state ascoltando quello che era successo precedentemente quindi se uno si è perso un piccolo pezzo della partita si è perso tutti tutto prima la vicenda la vicenda è molto semplice questo signor siri è un sottosegretario ai trasporti della lega questo signor siri secondo un'intercettazione pubblicata dal corriere e dalla dalla repubblica aperte le virgolette avrebbe secondo un suo diciamo conoscente un certo arata professore universitario ex parlamentare di forza italia questo arata avrebbe detto al figlio non si capisce bene siamo in macchina o a casa ci è costato 30 mila euro poi dopo grazie alla verità di bel pietro si è capito che questa intercettazione letteralmente non c'era nei prossimi giorni vedremo esattamente cos'era però ci sono due persone padre e figlio che dicono che questo signor siri gli sarebbe costato o gli avrebbe chiesto una promessa o avrebbero promesso questo signor siri 30 mila euro perché cosa per fare un emendamento sul sull'eolico il signor siri quell'emendamento insieme a migliaia di altri emendamenti sostiene lui lo ha cercato di far fare ma non è passato questo emendamento in realtà quindi ci sono due signori che avrebbero detto che gli sarebbe costato 30 mila euro per un emendamento che peraltro non è passato questi due signori a loro volta sarebbero in affari con un terzo signore che si occupa di eolico in sicilia e questo signore che si occupa di olico in sicilia sarebbe un prestanome o un finanziatore addirittura di matteo messiana denaro quindi siri secondo l'accusa sarebbe un corrotto ma secondo la realtà questa corruzione nascerebbe da quello che si raccontano due persone padre figlio in auto e queste due persone sarebbero in affari con una terza persona e questa terza persona tutto da dimostrare sarebbe un amichetto di messina denaro in questa maniera vi assicuro ci mettono in galera tutti quanti se qua fuori c'è qualcuno che dice ve l'ho già detto a io a porro gli ho fatto andare qualcuno in trasmissione ho fatto sì che porro dicesse una cosa nella sua zuppa di porro ma è totalmente falso o è una millanteria ma per quale motivo mi devono indagare a me per corruzione bene in realtà poi siri è stato anche condannato in realtà ha patteggiato per una bancarotta fraudolenta nel suo passato quando io ho sentito siri mi ha detto la gente non ha abituato non sa che cosa ho vissuto io in quel periodo in realtà ho patteggiato per un problema che non riguarda assolutamente nessuna distrazione di fonti ma questo ci interessa poco perché una volta raccontata questa storia resta la questione fondamentale certo martina quindi potrebbe essere costruita la telefonata per fregarlo potrebbe o potrebbe anche non esserlo non lo sappiamo però bene si guido siri le modifiche sull'eolico le ha mai chieste si le ha chieste ci sono due vendamenti ma vi ricorderei che siri come tutti i parlamentari non fanno altro che fare questo chiedono emendamenti e fanno emendamenti e tutto quanto beh se dovessero dimettere tutti quelli che hanno patteggiato resterebbero in due valentina beh insomma non proprio non è che ce ne sono molti che hanno patteggiato che stanno al governo detto questo ieri in questa vicenda conte ha deciso di dimissionare siri la lega si è allineata alla foga manettara di di maio cioè il foglio sostiene che la lega ha accettato le dimissioni di siri gli altri giornali hanno una posizione un po diversa e cioè raccontano di un salvini arrabbiatissimo per questa posizione di conte conte da una lezione alla lega ea salvini per il corsera conte sfida salvini il pezzo come spesso avviene più interessante materia giudiziaria quello di nordio che è un magistrato un ex magistrato veneto che dice l'indagine e l'accusa si basano dice nordio su le dichiarazioni di due persone rivolte a un terzo cioè quello che vi ho raccontato io e questo dice per mia esperienza non porta mai a una condanna in più ricorda nordio l'informazione di garanzia cioè l'avviso di garanzia che ha avuto siri sono a tutela dell'indagato quindi a tutela di siri se questo avviso di garanzia come in mani pulite diventa invece una presunzione di colpevolezza siamo finiti è un abominio quello che sta avvenendo nei confronti di siri mostruoso perché dal punto di vista etico oggi il fatto dice cos'è che dice il fatto dice finalmente torna l'etica in questo governo e compagnia cantante se volete dal punto di vista etico il problema era che siri avesse già patteggiato non che sia oggi avvisato con una un'indagine di questo tipo cioè non è soltanto pioggia un giustizialismo gratuito è una cosa un abominio tanto che oggi il presidente della lombardia fontana oltre a essere avvocato buongiorno susanna è presente lombardia e governa con il centrodestra leghista con il centrodestra lombardia il messaggero rilascia un'intervista in cui dice madonna mia per fortuna che governo con il centrodestra e non con questi pazzi di grillini pazzi lo aggiungo io l'aspesi preoccupata sono 23 giorni di campagna elettorale ma è dal 4 marzo che sia in campagna elettorale come darle torto il daily mail mi diverte il giornale popolare inglese oggi sapete su che cosa fa la prima pagina su un pensionato che ammazza un rapinatore a londra e deve scappare perché la banda di questo rapinatore lo ricerca ma la cosa fantastica buongiorno rossana è che anche per loro la legittima tivesa è un di quel di quel caldo di quei temi caldi addio alle note nelle elementari era previsto al 1928 che si potessero fare delle note elementari sul diario dei bambini in realtà il ministro bonissoli da qualche parte dice che era da un po di tempo che questa cosa era stata superata però molti si interrogano sulla fine della punizione a scuola delle sanzioni a scuola su una scuola come possiamo dire più garantista ecco mentre il governo lo è meno la scuola nei confronti dei bambini un po più garantista se così fosse sarebbe una minchiata secondo giorgetti sottosegretario potente all'economia scusatemi a palazzo chigi bisogna risolvere la questione all'italia che ancora la è all'italia ancora commissariata ancora perde due milioni di euro al giorno non si sa ancora a chi affidarla beh insomma giorgetti riprova ancora per l'ennesima volta a fare un accordo con i benetton cioè con atlantia con adr con gli aeroporti di roma la cosa ha anche un senso altri aeroporti hanno le partecipazioni nelle compagnie aeree di bandiera per esempio in luftanza e in air france ma il punto fondamentale forse una dei due ho sbagliato ma il punto di vista fondamentale di questa vicenda è che tu non puoi dare un cazzotto in faccia a benetton per la questione del ponte morandi in cui qualche colpa evidentemente almeno in manutenzione ce l'hanno quell'azienda non singolarmente benetton e poi dopo chiedegli il favore di entrare in una società che sta fallendo da 30 anni come atlantia chi invece è completamente fallita nonostante le vostre auto elettriche che vi piacciono tanto si chiama tesla tesla è peggio della fiat degli anni 80 70 tesla continua a chiedere soldi al mercato ne chiede altri 2 miliardi e nell'ultimo trimestre ha perso 750 milioni di dollari voi che avete la testa e siete tutti orgogliosi della tesla questi incentivi che fanno sì che la testa venga comprata che paghiamo noi contribuenti a favore vostra che potete poter dire che guidate la macchina verde sono ben contento per voi beh nonostante l'incentivazione della tesla in tutta europa e in una gran parte degli stati uniti perde 730 milioni in un trimestre soprattutto i volumi di vendita sono uniti del 30 per cento lo trovate con i titoloni sui giornali no perché l'auto elettrica va talmente di moda che oggi la prima pagina del sole 24 ore li dedica una notizia se vai a vedere poi a pagina 17 c'è un'altra foto notizia nessun approfondimento sul fatto che il campione dell'auto elettrica continua a perdere miliardi e miliardi nonostante sia sovvenzionata dall'opinione pubblica e dai governi di tutto il mondo non fa notizia giordano invece sfotte fubini articolista serioso del corriere della sera per quale motivo perché fubini ha ammesso l'altro giorno mi sembra in televisione di aver detto che quando aveva saputo che in grecia c'era un aumento delle morti premature per i bambini derivanti dalla anche dalla scarsezza di medicine che derivavano proprio dall'atteggiamento dell'europa di austerity beh ha detto non l'ho voluta scrivere quella notizia perché se no sarebbe stata utilizzata contro l'europa e giordano ovviamente lo prende in giro bella bellissima l'intervista a tria ministro di economia del del di questo governo perché sul foglio dice non esageriamo su questa roba del pil non esageriamo prima quando perdeva lo 0 1 0 2 per cento era la fine del bondo la recessione e questo forse rivolto al foglio non esageriamo ora che è aumentata dello 0 2 per cento perché anche questo momento del 0 2 per cento in realtà deriva soltanto dalla capacità che noi abbiamo di vendere beni all'estero in particolare alla germania che il nostro partner fondamentale va bene allora qua ha inviato una richiesta di partecipare al tuo video diretta trasmetti in diretta con con riccardo eccolo qua allora quindi il punto fondamentale è molto banalmente che il ministro tria mi sembra una delle persone più ragionevoli che ci siano in questo momento in questo governo e non fa altro che dire le cose di buon senso e c'è una di queste qua è che l'economia italiana è molto dipendente da quello che avviene in germania ancora non merito del governo in altri inoltre inoltre dice qua abbiamo fatto un errore scusate eccoci qua finiamo questa cosa è un altro non è ancora merito del governo buongiorno bartolomeo dice tria quello che sta succedendo per il semplice motivo che il governo ancora le sue misure economiche non hanno avuto come si può dire effetto benissimo io direi che per oggi è tutto noi ci vediamo più tardi come sempre sul sito nicolaporro punto it per tutte le novità sul caso siri e non solo sono tornati a campare di antifascismo uniche persone competenti al governo tria dice valentina buongiorno nick e claudio catania presente grandissimo è un piacere ascoltarti di ombretta tina dottor porto www paolo tria e muavero tecnici sono muavero secondo me verrà meglio perderlo che conquistarlo mentre tria mi sembra un ottimo ministro francesca è arrivata sì davvero tria françoise buongiorno come stai di qualcosa dell'amoretti delle sue vendite lasciamo perdere sulla muretti trust scopre l'aria calda non l'acqua un abbraccio a tutti quanti voi ci vediamo domani come sempre con la zuppa di porro e sul sito nicolaporro punto it per tutte le altre informazioni ciao